Nuovo aggiornamento della Combo ROM, che è giunta alla versione 3.0 ufficiale. Si è passati quindi dalla 2.1 alla 3.0, nel frattempo era uscita anche la 2.5, che già apportava una serie di novità molto importanti, per alcuni però avevano avuto problemi con la ricezione delle notifiche e anche delle app di sistema, e quindi era uscita anche una patch di correzione. In pratica questa 3.0 va ad inglobare le funzionalità principali presenti nella 2.5, e nella patch ad essa annessa, più aggiunge la possibilità di ricevere gli aggiornamenti OTA, che mancava in effetti con la 2.5. Diverse sono le novità introdotte con questo nuovo aggiornamento rispetto alla 2.1, basata sempre su Android 6.0.1. In particolare, che cosa possiamo notare? O meglio, che cosa sono state aggiunti? In particolare sono state innanzitutto corrette una serie di bug grafici, poi è stata migliorata la traduzione, infatti sono state aggiunte alcune stringhe in italiano che mancavano nella ROM precedente, in impostazioni scheda sim è stato migliorato la traduzione, o meglio, sono state corrette alcune stringhe in inglese che ora sono completamente in italiano, così come in avvio, dove compare, in questo caso, ricerca veloce, e quindi completamente tradotto in italiano rispetto alla vecchia 2.1. Oltre a queste, le modifiche più importanti riguardano innanzitutto la velocità di sblocco con le impronte digitali. Già era piuttosto rapida con la 2.1, però aveva avuto alcuni problemi, alcuni avevano avuto, diciamo, con le prime release, infatti si avevano avuto diversi problemi per quanto riguarda lo sblocco con le impronte digitali. Il rispetto alla 2.1, la 3.0, mostra una velocità di sblocco più rapida, che mancava anche con la 2.1, questa rapidità nello sblocco comunque mancava. Inoltre è stata aggiunta in funzionalità, è stata aggiunta la possibilità di abilitare la cover intelligente e quindi di sbloccare il dispositivo con una cover specifica al libro. Ma le novità più importanti riguardano l'introduzione dell'app NeoSafe in maniera castrata, cioè non compare più l'applicazione NeoSafe come era presente nella vecchia Combo ROM basata su Android 5.1.1, ma in un certo modo è stata introdotta, alcune voci della stessa applicazione sono state introdotte e queste le possiamo notare in particolare in altre impostazioni di sistema, andando alla voce batteria, oltre ad avere la possibilità, come nella vecchia 2.1 Combo ROM, la percentualità della batteria, il dettaglio del registro dell'utilizzo della batteria e il controllo del risparmio energetico che consentiva di limitare la CPU o di ridurre la luminosità dello schermo, di disattivare tutte quante le reti o la vibrazione al tocco, è stata aggiunta innanzitutto la modalità power saver, cioè la modalità di risparmio energetico. Una volta attivo il risparmio energetico, viene ridotta la luminosità dello schermo, vengono ridotte la ricerca delle reti e vengono anche in pratica spenti i suoni. Inoltre ci se ne accorge subito, poiché l'icona della batteria diventa gialla. Con la vecchia Combo ROM 2.1, quando il telefono aggiungeva al 10-20% di batteria, compariva un banner che ci chiedeva se attivare il risparmio energetico. Una volta dato l'ok, non notavamo nessuna differenza, proprio perché la modalità di risparmio energetico non era presente. Questa volta, dato che il risparmio energetico è presente, una volta arrivato al 10-20% se è attivato il risparmio energetico, ci si accorge che viene effettivamente attivato, proprio perché il colore della batteria diventa giallo, la luminosità del dispositivo si riduce e anche la potenza del dispositivo risulta in alcuni frangenti più lento. Rispetto alla 2.1 è aumentata anche la fluidità del sistema messi in nota in tutti i frangenti, notiamo una maggiore velocità dell'interfaccia Nubia. Altre novità riguardano l'aggiunta delle impostazioni avanzate di batteria. In impostazioni avanzate di batteria è possibile, in pratica, sia attivare la modalità di risparmio energetico, sia nuovamente guardare la classifica del consumo energetico, necessario per vedere quali app consumano maggiormente e quante ore di schermo siamo riusciti a fare con il nostro dispositivo. In particolare, con la vecchia 2.1, per poter sopperire a questa mancanza era necessario installare delle app esterne come G-SAM Battery Monitor Pro. Ora, dato che è stata aggiunta questa nuova funzionalità che era presente comunque nella vecchia Combo ROM 6.3.3, non sarà necessario fare affidamento ad app esterne in quanto potremo direttamente guardare le app che consumano maggiormente il nostro dispositivo. Inoltre, con la modalità normale viene mostrato il tempo residuo di utilizzo del dispositivo. Qualora venga attivato il risparmio energetico, come vediamo, aumenta, passa in questo caso da 13 ore a quasi 16 ore di utilizzo. Inoltre, sempre in questa impostazione è presente la possibilità di normalizzare il consumo energetico anomalo, cioè va a chiudere il sistema a tutte quelle app che registrano un consumo anomalo, oppure è possibile vedere un registro di tutte le app che hanno avuto un consumo anomalo, è possibile aggiungere nella whitelist tutte quelle app che pur avendo un consumo anomalo non si debbano chiudere, e poi è stata aggiunta la possibilità di permettere al sistema di controllare l'app WeChat qualora la stessa app sia installata. Ovviamente queste erano voci che erano presenti già nella vecchia Comporom 6.3 basata su Android 5.1.1 tranne la voce WeChat Neopower. In più è stata aggiunta anche la modalità performante, un'altra funzione che era presente già nella vecchia Comporom 5.1.1 e che era possibile trovare andando direttamente nell'applicazione NeoSafe. Con modalità performante è possibile aggiungere una serie di app che debbano sfruttare maggiormente la potenza del dispositivo, quindi in questo caso è una modalità utile soprattutto nel caso in cui utilizziamo dei giochi molto pesanti. Attivata questa modalità non si osserva un netto cambiamento, se non dopo una mezz'oretta o un'oretta di gioco dove il dispositivo tende a scaldare maggiormente nella parte posteriore. Ma, come hanno fatto notare anche altri utenti, attivata la modalità performante i benchmark non vanno a cambiare di tanto. I test su AnTuTu hanno dimostrato infatti che i punteggi sono rimasti gli stessi rispetto ad una modalità normale. Quello che cambia è solamente che dopo circa un'oretta di gioco il dispositivo riesce a mantenere i frame in maniera più elevata rispetto ad una modalità normale. Ma il telefono va a consumare più batteria e tende anche in pratica a scaldare maggiormente dalla parte posteriore. Tornando al risparmio energetico, ho notato che attivato il risparmio energetico effettivamente la durata del dispositivo va ad aumentare. Si passa dalle circa 10 ore in due giorni con consumo fatto solamente di due simattive Wi-Fi a circa 12 ore, 11 ore e mezza, 12 ore se è attivato il risparmio energetico. Questo ci fa capire che già la modalità normale senza risparmio energetico è già una modalità che in pratica tende a consumare niente di batteria. E questa è la differenza sostanziale rispetto alla ROM internazionale per il Nubia Z11 Max che ha avuto modo di provare. La batteria con la ROM di peso infatti riesce a garantire almeno due ore di schermo in più rispetto alla ROM internazionale. Queste sono quindi le novità più importanti introdotte con la nuova Combo ROM 3.0. Ovviamente mancano ancora alcuni elementi che si spera che verranno aggiunti magari con qualche aggiornamento OTA. Manca la possibilità di avere ancora il negozio dei temi che ritengo fondamentale per cambiare l'interfaccia del nostro dispositivo, le icone, senza dover per forza cambiare l'hanger. Manca la possibilità di poter gestire l'avvio automatico di determinate applicazioni che pensavo che fosse stato introdotto con questo nuovo aggiornamento ma non ho trovato la voce quindi non è possibile stabilire quali app devono partire in automatico all'avvio. Non è ancora presente la possibilità di gestire quali app debbano consumare solamente in Wi-Fi oppure quali app debbano in pratica consumare o meno i dati in 3G qualora si ha un piano con determinati giga e non vogliamo quindi consumare molti dati. Manca l'ID utente quindi la possibilità di avere un spazio cloud con 5 gigabyte e in particolare manca anche la possibilità di cancellare la memoria cache e gli altri elementi. A tutte queste mancanze in un certo modo si può sopperire probabilmente per quanto riguarda la memoria cache possono installare delle app esterne. Io utilizzo quest'app che mi consente in pratica di cancellare la memoria cache ma anche di stabilire l'avvio automatico delle app. Utilizzo poi un'app specifica di un altro elemento che manca ed è anche secondo me molto importante non è più presente nemmeno in questa 3.0 è presente in pratica la possibilità di bloccare le chiamate indesiderate quindi anche in questo caso bisogna ricorrere a delle app esterne quindi bisogna ricorrere ad un'app esterna sia per cancellare la memoria cache è possibile farla da recovery è possibile farla da imbostazione memoria però manca un'app diretta che possa cancellare tutta la spazzatura manca quindi una funzione diretta che possa bloccare le chiamate quindi dobbiamo in pratica far utilizzo ad un'app esterna finalmente è stata introdotta la statistica sulla batteria e altre voci legate alla batteria e quindi non è più indispensabile avere un'app come G-SUM Battery per avere un quadro generale di tutti i consumi presenti nella batteria delle voci che consumano maggiormente la batteria non è presente la possibilità di conoscere di poter stabilire in pratica quali app debbano in pratica connettersi in 3G o in Wi-Fi sicuramente l'elemento che a mio avviso manca di più e ancora e si sente che manca è il negozio dei temi se verrà introdotto il negozio dei temi si avrà fatto ancora un passo avanti e si sarà quasi arrivati alla perfezione che era presente nella vecchia Combo ROM 6.3 oltre a questo non l'avevo ancora detto prima sono rimaste ancora le funzionalità presenti in precedenza che lo differenziano il dispositivo rispetto ad una ROM internazionale la possibilità di variare i caratteri le dimensioni dei caratteri l'OTG funziona tranquillamente quindi una volta messa una chiavetta compare tranquillamente il menu dove montare la chiavetta e tranquillamente è possibile leggere in pratica le nostre chiavette è presente sempre una cosa molto molto simpatica bacchettando tante volte il dispositivo viene simulata la rottura del display quindi alla fine chi in pratica vuole tenere questa interfaccia ha la necessità però di cambiare le icone di cambiare il menu sfruttando maggiormente il fatto che il dispositivo ha uno schermo OLED e quindi i temi scuri vanno a consumare molto di meno di batteria quindi si spera che con i nuovi aggiornamenti l'utente PESA riuscirà almeno ad introdurre il negozio dei temi grazie a tutti